Si rialza con, lavorando e andando avanti, migliorando ogni giorno sempre, a andando in campo e dare tanto, come tutti i giorni in allenamento, è stata una sconfitta amare, sì ma non meritata, si è vista sin dall'inizio abbiamo fatto una grandissima gara purtroppo l'abbiamo sfruttato al migliore dei modi delle occasioni che abbiamo avuto ma sicuramente da oggi abbiamo cominciato con il mister sempre con la testa alta con le nostre idee e andiamo avanti per il nostro cammino sicuramente con il ripeto che la scoprita è stata amara ma non ci abbattiamo siamo sempre a testa alta Ciao Marco, buonasera Buonasera Voglio chiederti, il mister dopo la partita con la Vispesaro ha detto mi aspetto una reazione rabbiosa da parte della squadra del gruppo tu insomma in queste ore hai parlato con i tuoi compagni già vedi questo spirito nella squadra di rivalsa in vista di sabato? Sì ma non abbiamo mai abbastato la testa per la gara che abbiamo fatto contro la Vispesaro ripeto, sono state occasioni che abbiamo sfruttato i miei migliori dei modi ma noi abbiamo sempre, come ripeto, come ho detto prima abbiamo sempre le nostre idee sempre la nostra cattiveria e sempre la voglia di far di migliorare e di andare avanti e fare il migliore possibile per la squadra e per la città Ciao Marco Secondo te può bastare quando comunque si vede qualcosa di positivo sul campo a volte basta una scintilla quale potrebbe essere la scintilla per il Teramo o comunque un episodio positivo? Basterebbe solo sbloccarsi un po' di più sotto porta? Può essere ma non è quello che troppo la scintilla c'è cioè noi fino ad oggi abbiamo affrontato squadra fortissima ma noi abbiamo sempre dimostrato di dare sempre tanto cioè di andare in campo e di dare le nostre idee cioè noi fino ad oggi non ho visto squadre che ci hanno messo sotto purtroppo, ripeto, la scintilla qui si può scattare ma noi ogni giorno, ripeto, non abbiamo le nostre idee la nostra cattivera e cercheremo di fare più punti possibili contro ogni squadra, in ogni campo Io credo che con oggi a questo Teramo non siano mancati mai però la verità vera è che su 12 punti disponibili ne abbiamo presi due ora una riflessione su questo rendimento va fatta perché se giochiamo bene e non prendiamo punti il giorno in cui dovessimo giocare male magari vinciamo, ma è più facile che perdiamo allora ti chiedo se questa domanda ve la siete posti Come? Ma ripeto purtroppo non abbiamo, come hai detto tu giochiamo male, giochiamo bene o giochiamo male mettiamo tre punti a casa e non riportiamo purtroppo ci sono state tante occasioni che non le abbiamo sfruttate per questo, finora, fino adesso purtroppo, ripeto, abbiamo giocato con Trentella che è appunto a vincere il campionato Modena che è forte sì, ne è forte, abbiamo maleggiato sia a Modena che lì purtroppo abbiamo sfruttato le tre squadre sì, sì, ma il mister me ne sta dando il mister mi dà sempre fiducia, eccetera davanti a me i giocatori di esperienza i giocatori più grandi come Enrico e Mungo che sono giocatori di esperienza che hanno fatto quadri anche quattro quindi io sto dirlo di loro, li seguo e mi giuro piano piano insieme a loro poi sono il mister che fa le decisioni se giocare o meno senti Marco, dove hai giocato in Coppa Italia nella posizione di mezzala sinistra giusto? è un po' quella, diciamo, la posizione migliore per te insomma, tu lì ti trovi meglio in mezzo al campo sì, sì, in mezzo al campo sì, sì, la mia posizione migliore poi in futuro, in passato, scusami ho giocato anche da quinto ho fatto un po' tutti i ruoli però il ruolo mio è mezzala mezzala sinistra, mi trovo molto bene Marco, sabato arriva un avversario non semplice sulla carta anche perché contro il Siena insomma, è mancata solo la vittoria ha messo sotto anche il Siena immagino che poi lo vedrete meglio in settimana ma il Teramo, dal canto proprio, cosa deve fare a prescindere dall'avversario? sì, a prescindere dall'avversario può portare i punti a casa quello è il nostro obiettivo è di fare bene qualsiasi è la squadra provo a chiederti te la senti di tracciare un parallelo tra la casertana che andava bene quella del girone di ritorno e il Teramo di oggi che squadre sono? ma lui stava a cavale io stavo a cavale non scorsa chiedo scusa no, non ti preoccupare chiedo scusa, non l'ho la domanda chiedo scusa hai un'altra domanda? no, mi ero concentrato e mi ero preparato per questa sono in tre parti scusami, io ho una curiosità per Marco oggi avete ritardato l'inizio dell'allenamento quindi immagino che insomma avete un po' parlato vi siete confrontati dopo questa sconfitta cosa vi ha detto col mister? quello che puoi dire? sì, abbiamo parlato col mister dobbiamo migliorare gli errori queste cose qui ho parlato un po' il mister di stare tranquilli di alzare la testa di andare per il nostro cammino perché stiamo facendo molto bene queste sono state le parole del mister grazie a tutti